Mi sembra il caso. Abbiamo dominato la partita, non sembrava. Abbiamo dominato fino al settantesimo, proprio solo il Torre in campo. Purtroppo i bisodi in seriale costano e le paghe cari. Angelo doveva essere sostituito da un bel po' e non siamo riusciti neanche noi a buttare la palla fuori o chiedere all'arbitro di farlo sostituire. Poi hanno approfittato e hanno fatto qualcosa di pareggio. Poi abbiamo sbagliato completamente e loro hanno approfittato. Penso che non siano contenti di quello che hanno fatto e noi non lo siamo perché è una partita la più delle prime. Ma non lo potevamo fare prima. Abbiamo perso dei punti da inizio. Nessuno ci aiuta. Noi non vogliamo che si aiutino. Che si venga fatto quello che si deve fare. Noi dobbiamo crescere tanto. Oggi è stata una partita che se noi la riguardiamo dobbiamo parlare tantissimo perché è una partita del genere. Non si deve buttare così facile. Bene. Al di là del gol. Penso di non aver fatto una grande partita. Perché comunque devo essere più incessivo su e cercare di ogni pallone che devo toccare e finirlo in una toccata importante. Ancora non ci riesco. Ma niente. Ora dimenticare questa partita e lavorare la settimana. per portare i punti... ... ...